Come è anticipato all'inizio della puntata? Siamo abituati ogni tanto ad avere degli ospiti che ci vengono a trovare, sono in realtà degli amici. Qualcuno gioca a calcio, magari in Serie A come è già successo, altri giocatori di basket. Questa settimana dei giocatori di pallavolo, giocano a Biella nel Biella Volley. L'anno passato hanno sfiorato la promozione del campionato di A2 che avrebbero disputato quest'anno, ma quest'anno ci riprovano. Hanno messo a posto un paio di tiri e noi abbiamo voluto fare due domande a una delle persone che fa parte di questa squadra e all'allenatore. Questo è quello che ci hanno risposto. E finalmente siamo in compagnia con la squadra che l'anno scorso tanto ci ha fatto penare. Hanno sfiorato, come già detto, la A2 che dire al mister Romano Giannini qual è qualcosa in più, se quest'anno ce l'avete soprattutto, perché magari vi permetterà di fare un pochino più strada, che poi significa la A2 sostanzialmente. Ci credete? Sicuramente crederci è alla base. Siamo partiti già a preparazione con questa prima serata per cambiare anche un pochettino l'atteggiamento che l'anno scorso alla fine non ha impagato. Siamo migliorati sicuramente in esperienza. Non a caso quest'anno ci siano coperti anche in un ruolo importante come il palleggio con Simone Pendandi. Perciò mi auguro che sia di buon auspicio sia questa serata qui a Levita e poi tutto il resto. Beh, allora, Simo sei stato chiamato in causa un po' perché tu sei stato presente a Levita per tutta la stagione estiva, o parte della stagione estiva perché hai un hobby, quello di miscelare cocktail qui con noi. Un po' perché la tua esperienza dell'anno scorso a Milano in Serie A è stata chiamata a rispondere di forza a quel qualcosa che mancava. Pensi che ci sarà un po' più di strada? Ma ti dico, io sono molto contento di far parte del Biela soprattutto perché hanno un progetto e quella è la cosa fondamentale, avere un progetto e un obiettivo. Io ti dico, sono qua per, sono stato chiamato per svolgere al meglio il mio ruolo, io sono prontissimo ad aggregarmi ai miei compagni che hanno cominciato qualche giorno prima di me, io comincerò lunedì. È chiaro che in campo e in allenamento cercherò di mettere tutta la mia esperienza e tutta la voglia di lavorare, ma ti dico, secondo me la cosa in più è sempre il gruppo, il gruppo è lavorare tanto, so che è stato allestito un ottimo gruppo e soprattutto siamo nelle mani di gente che ha voglia di lavorare, lavorare ha sempre pagato. E il gruppo peraltro è quasi tutto presente qui questa sera. Come si fa, c'è bello carico. Molto carico, guardali là, sono tutti qui che stanno flettando per alzarsi in piedi e festeggiare. Un'ultima cosa, se qualcuno vuole seguire le vicende del Biella Volley ci sarà sicuramente un sito. Sì, da quest'anno molto aggiornato è www.biellavolley.it Perfetto, allora, questo è l'appuntamento con il Volley anche alle vita per una sera, che direi non ci rimane che divertirci tutti insieme. Sì, da quest'anno molto. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima